quanti di voi in famiglia hanno un cane e spesso lo trasportano in auto beh sicuramente la risposta è tanti perché pensate che in italia sono circa 7 milioni ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di realizzare questa breve guida per assicurarci che anche loro viaggino nel massimo del comfort oltre che ovviamente nel pieno della sicurezza per cominciare ecco quello che dice il codice della strada si può portare solo un cane nell'abitacolo a patto che non costituisca un impedimento alla guida e che sia assicurato al sedile tramite pettorina ancorata alla cintura di sicurezza in altre parole non deve saltellare da un sedile all'altro o stare accucciato sulle nostre gambe se i cani sono due o di più devono stare nel bagagliaio dentro ad un trasportino o installando un'apposita grata divisoria di conseguenza la legge vieta che il cane si sporca dal finestrino le multe per l'inosservanza della legge vanno da circa 80 a oltre 300 euro ma non finisce qui perché si rischia anche un punto sulla patente e in caso di incidente se viene accertato che la causa è stato il trasporto scorretto dell'animale l'assicurazione può rivalersi su tutto l'indennizzo a parte la legge poi c'è il comfort vostro e del vostro cane e allora sono venuto in un centro cinofilo per farmi spiegare direttamente da chi di animali se ne intende le nuove cose da non dimenticarsi mai magari alcune vi potranno sembrare scontate ma un ripasso non fa mai male regola numero uno vale principalmente per i cuccioli si educano al trasporto in auto e glielo si fa apprezzare associandolo a eventi positivi come per esempio andare al parco numero due insegnare al cane a stare serenamente nel trasportino magari con l'aiuto di giocattoli o coperte preferite ricordatevi che deve essere di una misura tale da consentire al cane di girarsi al suo interno regola numero tre prima di mettersi in marcia meglio dare un pasto leggero e asciutto ed evitare il viaggio a pancia piena o dopo aver bevuto tanto consiglio numero quattro d'estate è meglio evitare le ore più calde e comunque non esagerare con il climatizzatore per via degli sbalzi di temperatura troppo elevati numero cinque qualora l'auto non abbia i vetri oscurati si può facilmente ricorrere a delle tendine aftermarket da applicare sui finestrini regola numero sei se viaggiate d'estate portate sempre con voi una bottiglia d'acqua ed una ciotola pieghevole per evitare la disidratazione regola numero sette ogni due ore circa di viaggio è bene pianificare una sosta per far sgranchire un po le zampe numero otto così come i passeggeri bipedi anche i cani gradiscono una guida tranquilla con pochi strattoni poche accelerazioni improvvise o curve brusche in caso di nausea se questa persiste consultate un veterinario numero nove non dimenticate di portare sempre con voi un kit di pronto soccorso ok per adesso abbiamo parlato delle cose da fare o non fare ma tornando alle auto generalmente chi viaggia spesso con i cani apprezza versatilità e spazio di station wagon e di suv va detto però che queste non riservano agli animali le stesse attenzioni e da questo punto di vista la maggior parte di voi si ricorderà la nissan x trail for dogs del 2017 che ha provato giuliano progettata proprio per far fronte a questo tipo di esigenze la buona notizia è che quel concept ha riscosso così tanto successo che ora una sua versione un po rivista è arrivata sul mercato si chiama x trail trainer e non è un modello specifico come era la for dogs perché infatti qualsiasi x trail può diventare una trainer con un kit specifico che viene acquistato e fatto installare presso la rete ufficiale e che poi si rimuove quando non serve più e i tester di eccezione di oggi sembrano apprezzare rispetto alla for dogs ha perso qualche accessorio come la telecamera per vedere nel bagagliaio tutti quelli più importanti invece restano e sono stati resi ancora più pratici i rivestimenti lavabili in ecopelle sia sul piano del vano che sulla parete in fondo non trattengono il pelo e grazie all'imbottitura non ci sono angoli vivi o materiali taglienti nella parte superiore è installata la griglia divisoria sotto le due paretie del fondo c'è uno spazio ben organizzato con delle vasche che contengono due teli per asciugatura un telo impermeabile per quando si lava il cane e poi il rubinetto e la doccetta che funziona con un telecomando e un serbatoio collocato dietro il divanetto posteriore che resta ribaltabile dall'altro lato del doppio fondo invece c'è una rampa estraibile con superficie zigrinata utile per i cani più piccoli che non riescono a saltare nel bagagliaio oppure per quelli più anziani nel doppio fondo resta comunque lo spazio per il kit di riparazione pneumatici e ancora il posto per qualche altro giocattolo o accessorio come un guinzaglio o una ciotola pieghevole sempre nel bagagliaio poi ci sono due ganci utili a fissare anche il trasportino e una presa a 12 volt che serve anche a dare alimentazione alla doccia il kit trainer ha un prezzo di 1599 euro e inclusa a cui si aggiungono i costi del montaggio che richiede circa un'ora e mezza allora gaia prova superata la cosa da tenere a mente comunque qualsiasi modo e qualsiasi auto scegliate per muovervi con i vostri amici e che tutto sia fatto a norma di legge con accessori omologati e seguendo il vostro buonsenso in maniera tale che le vacanze siano un piacere per davvero tutti i membri della famiglia grazie a tutti